Nuove possibilità di accesso negli asili nido comunali. È stata disposta infatti l'apertura delle iscrizioni per l'anno educativo in corso per i lattanti, cioè i bambini da 3 a 12 mesi. Tre i posti disponibili nell'asilo nido di Santa Petronilla, sette nel caso del Pasolini, pubblicato infatti sul sito del Comune Il Bando. Una buona notizia annunciata anche attraverso i social dall'assessore a ramo Cettina Andaloro. Sarà possibile inviare le domande entro le ore 12 del 7 dicembre 2022 tramite posta certificata all'indirizzo protocollo chiocciolapec.comune.caltanissetta.it oppure mail all'indirizzo ufficio.protocollo chiocciolacomune.caltanissetta.it. In entrambi i casi indicando nell'oggetto la dicitura nuova domanda di iscrizione asilo nido anno 2022-2023 o ancora potrà essere presentata all'ufficio protocollo del Comune o tramite raccomandata corricevuta di ritorno indirizzata al signor sindaco del Comune di Caltanissetta direzione settima politiche sociali socio-sanitarie scuola Corso Umberto 134. Anche in questo caso bisognerà inserire la stessa dicitura nel plico. La modulistica è scaricabile dal sito del Comune o ancora disponibile presso lo sportello della direzione in via De Gasperi. Verranno poi assegnati dei punteggi e sarà stilata una graduatoria. Le emissioni saranno effettuate sulla base dei posti resisi disponibili nelle sezioni lattanti degli asili, si legge nel bando, che fa anche riferimento alla questione rette mensili. Importo calcolato in base alla fascia di reddito. Servizio gratuito per chi possiede un'isee da 0 a 3.215,20 euro.